Che cosa ci fai qui? Perché sei qui? Lui ha cercato di lasciarmi, di dirmi addio ieri sera. Ma non c'è riuscito. Perché io e lui siamo come una cosa sola. Può succedere. Incontri una persona e subito... ti senti attratta e non puoi resistere. Credi che non capisca quello che vuoi fare? Tu stai cercando di portarmelo via. Stai facendo di tutto per allontanarlo da me. Per quello l'hai trascinato qui. Tu vuoi farmi credere alla famiglia o alla felice. Non è così? Non è così. Se tu non fossi così stupida capiresti ma tu sei così stupida stupida una stupida figlia di puttana stupida figlia di puttana stupida figlia stupida 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 Dai! 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 That's what I wanted! It was kind of